Pratica e ricca di informazioni, ecco a voi la nuova guida turistica di Tortora ideata dall'amministrazione comunale, 52 pagine sulla storia, la cultura e la cucina del primo paese dell'Alto Tirreno Cosentino. Il titolo della guida è Tortora alle porte della cultura ed è possibile trovarla negli infopoint presenti sul lungomare Siri Marco e in quello della Proloco in piazza Stella Maris. È uno strumento in più per far conoscere la nostra cittadina anche perché abbiamo deciso di distribuirla anche nei comuni limitrofi proprio a Tortora ed è uno strumento che raccoglie in sé tutte quelle che sono le informazioni culturali, storiche, vi è all'interno anche una mappa con i punti di interesse. Ecco cercheremo sempre di più di far conoscere la nostra cittadina anche tramite lo strumento di una guida turistica pensata insieme ad alcuni cittadini tortoresi oltre che all'amministrazione. Ed ecco cosa troveremo al suo interno. Tutto quello che c'è da visitare a Tortora, quindi dai monumenti del centro storico, troviamo una parte dedicata alla marina, una parte dedicata a quelle che erano le tradizioni tortoresi e a quelle che ancora restano in parte le tradizioni tortoresi. Abbiamo dato una pagina di spazio anche alla Zaffarana e c'è una parte gastronomica con delle vere e proprie ricette tipiche di Tortora. Io volevo ringraziare anche il professor Michelangelo Pucci che ci ha aiutato nella stesura dei testi e al Gino Pucci che invece ci ha aiutato, ci ha fornito tutte quelle che sono le fotografie presenti in questa guida.